come vedete io sono al pigiama e qui c'è la mia tazza di latte caldo che non è più caldo per motivi e come sempre prima di cominciare sigla bene oggi vorrei parlare di per l'ultima volta da mia prima crocea come è stato per me è stato bello con gli esperti e altri per ti no perché mi per un rispetto perché essendo che ho dovuto fare per mia scelta fare un vlog quindi ho dovuto prendere il mio tempo per fare il video il vlog è montarlo quindi non ho visto praticamente nulla alla nave tutta una camera anche anche quando c'era il capodanno sono andato tutto il giorno tutto il tempo in camera per fine di montare il vlog che è lunghissimo credo che non ho mai fatto un vlog così lungo anche un altro aspetto non è sempre l'altro aspetto sì perché ho viaggiato ho visto poche cose però ho visto un tempo del solito per esempio Barcellona l'ho visto e l'ho visto Napoli non ho visto praticamente nulla infatti alcune volte ho fatto vedere solo il nave il tracco il cibo come sempre e quindi non non ho potuto vedere nient'altro solo il barcellona e quindi ho visto solo quello che ho visto anche voi su quel canale non quel canale quel canale è questo sul vlog l'atto è finito quindi questo video si chiude qua se il video vi è piaciuto mettete like iscrivetevi al canale e se vostra vita è grigia sorridete e che avete una vita sola ciao alla prossima